Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata agli integratori alimentari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace ai video che ti interessano, e commentare con le tue esperienze personali, in base agli integratori date e assunti, grazie ai suggerimenti condivisi. In questo video esaminiamo l'integratore alimentare, Emex. A cosa serve? Emex ha un integratore appartenente alla categoria degli integratori antireflusso gastroesofageo, Marge. È commercializzato in Italia dall'azienda Horus Salus SRL. Informazioni commerciali. Titolare. Horus Salus SRL. Concessionario. Horus Salus SRL. Categoria di appartenenza. Integratori antireflusso gastroesofageo, Marge. Forma farmaceutica. Spray. Confezioni. Emex. Spray orale 30 ml. Indicazioni. Indicato in causa di nausea. Descrizione e caratteristiche. Con estratto di zenzero. Integratori alimentari a base di vitamina B6. Con estratti vegetali. Grazie per avermi seguito fino a qui. Spero di esserti stato utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento. Ci vediamo al prossimo. Integratore alimentare esaminato.